considerazioni post Sassuolo Lecce 1 a 0 decide Domenico Berardi un gol della vita ovviamente era scontato che lo facesse proprio contro il Lecce il gol della domenica Domenico Berardi che se lo riprova altre 10 volte e finisce la palla 9 volte in curva sopra il Mapa e Stadion però questo è quanto purtroppo si perde anche la seconda partita consecutiva però come ha detto Baroni ai microfoni di Dazon l'ho sentita ci si porta a casa un'altra prestazione comunque importante di livello soprattutto dopo il gol subito questo è un punto che voglio sottolineare il Lecce quando va in svantaggio aumenta il livello della prestazione comincia a fare cose importanti prima sullo 0 a 0 a inizio gara è sempre ancora un po' troppo fermo un po' troppo bloccato ecco anche forse anche forse a livello mentale appena prende la botta la botta del gol subito poi si dà una sveglia ma invece quando si è ancora sullo 0 a 0 non decide di osare come quando lo fa quando perde quando è in svantaggio diciamo però prima di partire mi raccomando un pollice nel suo video un'iscrizione al canale totalmente gratuita e scusatemi se faccio questo post qui da questa location ma sono in vacanza e ieri sera non avevo assolutamente il tempo per fare il post partita perché qui proprio è difficilissimo poter registrare un video andando avanti con le considerazioni per l'appunto era una partita che se finiva in pareggio era tutto che pressoché meritato da parte del Lecce che gioca un grande secondo tempo un grandissimo secondo tempo a mio avviso soprattutto dal 45esimo appena inizia fino al 65-70esimo il Lecce gioca un grande secondo tempo crea occasioni e purtroppo però non vengono sfruttate mi viene in mente la palla che dava Schirotto a banda una bellissima palla verticale per banda che poi purtroppo non la sfrutta non la sfrutta a dovere lì va a calciare subito e cercare di incrociare il tiro ma purtroppo sbaglia completamente non mette neanche il cross banda e lì quella è un'occasione grande 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 un'altra occasione che mi viene in mente però questa nel primo tempo quella di Cissé dopo un pressing fatto veramente molto bene Cissé non riesce a concludere bene in porta gli aveva due opzioni addirittura a un certo punto poteva anche passarla mi sembra verso di Francesco Strefezza quello dall'estero dall'altra parte però lì decide di calciare poi tira anche male gli viene anche deviato il tiro vava in calcio d'angolo ma poco da fare ecco quella forse è la più grande occasione avuta anzi un'altra grande occasione è stata quando proprio un cross di Strefezza dall'altra parte un cross di Strefezza tagliato basso la buca Erlich e purtroppo Cissé non ha non ha il tempo di reazione per toccarle e metterla in porta perché gli bastava veramente un tocco dell'attaccante del Lecce e il pole ne sarebbe finito in porta ci portiamo a casa l'ennesima prestazione convincente comunque anche questa è una prestazione di livello come quella fatta con l'Inter una buona intensità ho visto un buon pressing però come ha detto Baroni in conferenza ci manca qualcosa della davanti nel senso la davanti siamo poco cattivi come se cattivi in fase di pressing e comunque anche dietro secondo me reggiamo molto bene molto male Gallo non mi è piaciuto Gallo per niente molto bene Jean Drey secondo me ha fatto una discreta partita ho visto un Di Francesco leggermente sotto tono anche un strefezza non brillante come nella prima gara Hulman il professore in mezzo al campo è la nostra certezza un giocatore totale Gonzalez ha fatto nì e nì Bistrovic mi è piaciuto molto Bistrovic è un bel giocatore raga Bistrovic farà molto molto bene quest'anno un giocatore che mi convince non capisco la scelta di non far giocare ancora Pablo Rodriguez perché lì davanti può fare molto bene anche perché questo Colombo ha subentrato non mi convince tanto e due volte che è subentrato su due non mi ha mai convinto fin troppo a questo punto io proverei la carta a Pablo Rodriguez che è tecnicamente più forte di Colombo e sicuramente ha voglia anche di dimostrare qual è il suo valore si sia fatto una discreta partita non mi è dispiaciuto dietro Baschirotto bene Blinna anche Falcone non gli si può di niente sul gol è totalmente incolpevole sul gol raga è totalmente incolpevole tutta la squadra perché Berardi veramente fa un gol che se ci riprova altre 100 volte 99 volte la spara in curva purtroppo Berardi anche questo trova il gol della domenica poi ho grandissime cose nel Sassuolo non me ne ricordo a parte qualche punizione che abbiamo concesso dal limite e basta una partita che meritavamo assolutamente di più il pareggio e per assurdo se si sfruttavano anche meglio le occasioni si poteva anche vincere si poteva tranquillamente anche vincere solo che purtroppo pecchiamo un po' di aggressività là davanti sbagliamo un po' troppo non tanto l'ultimo passaggio ma il tempismo su cui quando bisogna calciare importa questo sì questo l'ho notato anche ieri purtroppo perché da queste due prestazioni se tiravi fuori due punti diciamo che erano anche meritati andava bene per il morale prendevi prendevi fiducia comunque iniziavi con due pareggi era tutta un'altra storia che due sconfitte anche se comunque la prestazione te la porti a casa ma alla fine poi in classifica c'è sempre scritto zero e non è mai bello soprattutto perché per gli sforzi che la squadra ha messo in campo perché la squadra in campo organizzata sa quello che deve fare pecca un po' di esperienze questo sono ve lo dico assolutamente meno male che con gli arrivo di un TT e l'altro difensore centrale che oggi è Lecce per le visite mediche arriva tanta esperienza però là davanti secondo me ci sarebbe bisogno di un colpo importante un colpo da 90 lì lì come punto centrale o comunque come esterno un colpo importantissimo che può fare la differenza però la cosa che mi fa ben ispirare è perché vedo una squadra organizzata e quindi quando vedo una squadra organizzata vedo 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 che più avanti si può raccogliere qualcosa a qualche punto perché se continui a fare questo tipo di prestazioni prima o poi i punti arrivano prima o poi ti gira bene prima o poi magari sarà un nostro giocatore a fare il gol della domenica e magari saremmo a portare a casa i tre punti e non il sassuolo che sinceramente non meritava la vittoria fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento pollice sul video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi a un prossimo video